Dopo l'accensione delle luci d'artista ma anche del maxialbero situato in piazza Portanò può dirsi ufficialmente partita l'edizione 2021-2022 dell'evento che caratterizza Salerno. Una sorta di via di mezzo tra l'edizione ridottissima dello scorso anno e quella di quest'anno che il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha definito soprattutto essere un messaggio di speranza per le tante attività danneggiate dal periodo di chiusura e di sofferenza legate alla pandemia. Il prossimo passaggio atteso sarà quello della inaugurazione del parcheggio di Piazza della Libertà. Il taglio del nastro è in programma martedì ma non ci saranno luci per illuminare l'aria perché come ha anticipato il primo cittadino di Salerno si è preferito attendere il prossimo anno e studiare soluzioni adeguate ad illuminare al meglio lo spazio molto ampio. Oggi anche prima prova di forza sul piano sicurezza Stuart per strada, limiti numerici per i pullman e verifiche a campione strada per assicurare il rispetto della normativa dei Green Pass e quanto è stato previsto dall'amministrazione comunale che ha concordato il piano di sicurezza ottenendo l'ok dalla prefettura di Salerno affinché la manifestazione si svolga nel più sicuro dei modi possibili cercando di evitare assembramenti.